Il Rubomaster Schnell è la macchina di riferimento a livello mondiale per la sagotatura di barre di grosso diametro e quando visito i nostri clienti è sempre un momento di grande soddisfazione quando posso parlare con gli operatori perché mi dimostrano con grande sincerità la loro piena soddisfazione della macchina sia a livello delle prestazioni sia perché li solleva da un lavoro che sarebbe altrimenti molto faticoso e molto difficile.